Marco aveva sempre amato la musica. Da piccolo, passava ore a suonare il pianoforte e a comporre le sue canzoni. Sognava di diventare un musicista famoso e di esibirsi davanti a migliaia di persone. Ma un giorno, la sua vita cambiò in un istante. Stava tornando a casa in bicicletta quando fu investito da un'auto. L'impatto fu violento e Marco perse i sensi. Quando si risvegliò in ospedale, ricevette la notizia più terribile. Era rimasto cieco. Marco si sentì come se il suo mondo fosse crollato. Non riusciva ad accettare la sua condizione e si chiuse in se stesso. Smise di suonare il pianoforte e di ascoltare la musica. Pensava che non avesse più senso vivere. Ma un giorno, qualcosa cambiò. Mentre era in riabilitazione, conobbe una ragazza che si chiamava Sara. Era una volontaria che aiutava i non vedenti a imparare a orientarsi e a usare il bastone bianco. Sara era solare, gentile e ottimista. Si interessò a Marco e alla sua passione per la musica. Lo incoraggiò a riprendere a suonare il pianoforte e gli fece conoscere altri musicisti non vedenti che avevano realizzato i loro sogni. Marco iniziò a fidarsi di Sara e a riaprirsi alla vita. Si rese conto che la musica era ancora la sua ragione di vita e che poteva esprimersi anche senza vedere. Riprese a comporre le sue canzoni e a registrare dei demo. Grazie al sostegno di Sara e dei suoi nuovi amici, Marco partecipò a un concorso per giovani talenti musicali. La sua esibizione fu emozionante e toccante. Il pubblico lo applaudì a lungo e la giuria lo premiò come vincitore. Marco non poteva credere al suo successo. Si sentì felice e orgoglioso di sé. Ringraziò Sara per averlo aiutato a ritrovare la sua luce interiore. Questa è la storia di Marco, un ragazzo che ha perso la vista in un incidente, ma ha superato le sue paure e ha realizzato il suo sogno di diventare un musicista di successo. Cosa possiamo trarre di positivo da questa storia? Possiamo imparare che la vita può riservarci delle sfide difficili da affrontare, ma che non dobbiamo mai perdere la speranza e la fiducia in noi stessi. Possiamo imparare che l'amore è una forza potente che può aiutarci a superare gli ostacoli e a rendere il mondo un posto migliore.